Il progetto Itinerari dello Spirito e il Cammino di Europa tra Biellese e Canavese è stato selezionato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo tra i progetti presentati nell'ambito del bando in luce. Il bando sosterrà con l'erogazione di 74.000 euro l'ampliamento e la valorizzazione del Cammino di Europa fino al territorio canavesano. L'amministrazione del Santuario d'Europa sarà capofila di questo progetto e proprio in questi giorni ha dato il via alle prime fasi di attuazione. Il Cammino di Europa attualmente si snoda per 60 chilometri e sarà percorribile invece per oltre 100 chilometri complessivi. Si innesta alla via francigena e si collega a uno dei principali itinerari devozionali europei. Sarà in seguito estendibile anche al Biellese orientale. Il progetto è il pregio di unire la valorizzazione del territorio con un'attenzione agli aspetti sociali. Tra le finalità lo sviluppo dei due territori dal punto di vista turistico che avverrà attraverso la tracciatura del sentiero e la realizzazione di una piattaforma di booking che agevolerà le prenotazioni delle strutture ricettive collocate lungo il cammino. È anche previsto il coinvolgimento di giovani in situazioni di disagio, in attività formative e tirocini finalizzati all'apprendimento di competenze legate proprio alla fruizione del cammino come l'accoglienza, la comunicazione turistica e la cura dei sentieri.